un faccia faccia con il presidente del consiglio dimissionario del comune di venaria andrea accorsi c'è stato dell'astio con il sindaco roberto falcone portato avanti da ottobre fino a che entrambi non siete sbottati e si è arrivati a una a una crisi una crisi dove praticamente il presidente del consiglio accorsi si è dimesso si sono dimessi altri tre consiglieri e adesso è crisi nera presidente sì io ieri ho avuto modo di replicare al sindaco per quelle che sono saltate le sue esternazioni fatte su facebook sul suo profilo dando delle spiegazioni secondo me molto significative oggi ho avuto modo di ascoltare la registrazione della conferenza stampa che lui ha indetto e su questa personalmente vado a fare delle considerazioni ritengo importanti ha iniziato il sindaco parlando di manutenzione scuole di fase 3 del san francesco del bilancio partecipativo allora per quanto riguarda la manutenzione scuole il sindaco avrebbe dovuto ricordarsi che ad inizio mandato il consigliere battafrano che era presidente della commissione che si sarebbe dovuto occupare no del settore lavori pubblici ha presentato un un progetto no legato alla ristrutturazione alla manutenzione del delle scuole e anche proposto la costruzione di un di un nuovo edificio scolastico cosa che naturalmente purtroppo non è stata presa in considerazione è stato è stato appunto proposto di fare una manutenzione costante gli edifici scolastici attraverso la possibilità di effettuare dei bandi estremamente più rapidi rispetto a bandi da un milione e duecentomila euro come sono messi in piedi e quindi restando sotto soglia sotto i 40 mila euro per fare una manutenzione come dicevo costante agli edifici scolastici che si può fare di volta in volta di anno in anno per edifici diversi faccio un esempio se alla romero noi oggi decidiamo di cambiare le tapparelle del dell'intero edificio no stando sotto soglia ripeto 40 mila euro su un altro edificio scolastico si può magari ripristinare i bagni e su un altro si può fare un'opera di ripristino per l'illuminazione cosa estremamente drammatica negli edifici scolastici dove i bambini continuano a lavorare con una criticità per quanto riguarda la situazione visiva di fatti a fronte del fatto che abbiamo messo delle reti siamo dovuti correre in emergenza mettere delle reti non possiamo sostituire gli impianti illuminanti questa è una condizione tra l'altro che è stata fatta da me presente alcuni l'anno scorso esattamente in una relazione dopo una visita nell'edificio scolastico della romero si è parlato ha parlato del san francesco faccio presente che quella è stata una una proposta fatta dal dall'assessore d'afflitto no perché probabilmente molto legata forse ad alcuni aspetti a lei vicini allo sport e il fatto di concepire una struttura dove si potesse spendere un milione duecentomila euro in modo impreciso è stato contestato fortemente tant'è che adesso ci siamo trovati di fronte al fatto che che dobbiamo che avremmo dovuto aggiungere 272 mila euro e di fatti era quello previsto nella prima variazione del 13 di maggio e quindi una spesa anche lì sotto controllo è una realizzazione che in ogni caso non sarebbe mai andata a buon fine perché ad oggi sì ci sono i progetti però poi bisogna esercitare i bandi no e poi bisogna costruire quindi in un anno non ha il tempo ma non ha il tempo tecnico per sviluppare questi lavori di fatti il problema della variazione è una è una mistificazione perché purtroppo ormai siamo abituati a sentire il sindaco che mistifica può riuscire ad indurre le persone a pensare che quello che lui dice perché ha l'autorità ha la possibilità di diciamo di comunicare no con i media con molta più semplicità rispetto ai consiglieri rispetto me anche nel ruolo del presidente del consiglio e il problema della variazione e dei progetti che non possono partire è completamente ripeto una mistificazione questo perché perché noi sapevamo già a monte che quei progetti non sarebbero potuti non si sarebbero potuti terminare diciamo nell'arco di un anno la dice la dice lunga il fatto che martedì pur avendo comunicato come previsto l'assenza di noi quattro consiglieri si sono presentati in consiglio si sono presentati in consiglio in undici nel momento in cui tu ti rendi conto che non hai una maggioranza qualificata perché in prima seduta la maggioranza è qualificata quando hai tredici consiglieri seduti sui propri scanni dopo quattro anni io penso che ad un certo punto ci sia almeno la possibilità di 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 saperle queste cose si sarebbero dovuti alzare e tornare il giorno dopo il 29 per essere in nove allora lì avrebbero potuto approvare tranquillamente la variazione di bilancio e quindi approvare i progetti lo dimostra il fatto che nella mattinata di ieri il sindaco aveva a disposizione un emendamento nella mattinata di ieri aveva chiesto la ragioneria di predisporre una un emendamento per far passare la variazione quindi la responsabilità della della caduta di questi progetti che comunque non sarebbero terminati ripeto è tutta ed esclusivamente di questa maggioranza lei ha accusato il sindaco di guardare sempre al castello di venaria non voltandosi mai a guardare una città che le stava sfuggendo di mano quello che non abbiamo capito ieri è stata la pantomima sulla sostituzione di turetta ce la vuole spiegare molto volentieri molto volentieri perché allora nei concetti del movimento 5 stelle c'è democrazia condivisione allora e partecipazione purtroppo questo sindaco e questa giunta soprattutto non ha mai condiviso nulla tant'è che vi faccio un esempio in alcuni approcciandoci da alcuni consigli a noi di maggioranza venivano mandati per ben due volte sono stati mandati i formati in excel preparati dal capogruppo o da ligas perché indubbiamente ligas è il capogruppo sindaco e assessore all'occorrenza come ho detto ieri sera senza fare un minimo di discussione dove venivano crocettate dove venivano crocettate ed indicate le delibere e come dovevamo votarle se sì cioè favorevoli o contrari il problema del della reggia è semplicemente questo ritornando la condivisione sappiamo che il sindaco l'assessore d'afflitto sono andati a parlare con il ministro bonisoli e sono andati a parlare con il ministro alla difesa ma niente abbiamo saputo nulla c'è stato riportato tutte le volte che sono andati a parlare c'è stato anche detto che sarebbero andati a parlare per l'ospedale ma quando sono tornati non hanno raccontato nulla il nulla allora io dico quello che è il sentore di molti all'interno del gruppo anche di maggioranza e di quelli che se ne sono andati via e ancora prima se esce un comunicato stampa dalla stampa di torino dove dice l'assessore d'afflitto è una persona papabile per quanto riguarda il la sostituzione del del dottor turetta non si aspetta che arrivi qua il ministro io credo per dire all'assessore credo e mi riservo naturalmente di sentirmi smentito su questo no per dirle che purtroppo con il suo curriculum indubbiamente non può accedere a quel ruolo e quel momento subito dopo dopo due mesi di mal di pancia all'interno della maggioranza esce un comunicato stampo stampa della sessore d'afflitto che lei per il bene della città e per l'impegno che si è preso per la comunità non lascerà mai questo ruolo e beh secondo me c'è ben poco da pensare molto ben poco da pensare in conferenza stampa il sindaco roberto falcone ha praticamente corretto i dati c'è stata una inesattezza sui dati che praticamente lei ha dato sul giro d'italia e sul le spese sul natale 2018 che sono state pari ad euro 62 mila 480 circa sì anche qui si tratta di mistificazione perché i dati sono chiari e sono disponibili a tutto a tutti dunque il il giro d'italia è costato la cifra di 45 mila e qualcosa euro come indicato ieri sera questo è determinato dal fatto che l'atto è stato chiesto da parte di un consigliere di minoranza ed è un documento ufficiale uscito dal comune e quindi dal dirigente è stato preparato e comunicato quindi quei dati lì non sono inconfutabili il costo è quello per un evento 45 mila e 540 euro per quanto riguarda il natale a noi è stato prospettato e noi è stato prospettato un costo dalla consigliera di riferimento caterina terrizzi di 46 mila e 500 euro in chat referenti d'afflitto che poi si sono tradotti in un documento a fronte della modifica del dupe proposta da noi quattro consiglieri dal sindaco di veneria che era pari circa a 54 mila euro e nella riunione che ci siamo trovati su prima del 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 della deliberazione del dupe io ho semplicemente scaricato le determini dirigenziali che ripeto sono inconfutabili i costi sono 62 mila 485 euro circa dopodiché se all'interno del del natale l'assessore d'afflitto il sindaco ritiene che si possono sviluppare 46 eventi circa anzi scusate nella festa delle rose io ritengo che sia un'assurdità il documento che ci è stato fornito all'epoca faceva risultare che l'assessore d'afflitto fa 466 eventi in un anno se si tratta di festa delle rose l'evento è una se ad un certo punto per ogni minima cosa debba risultare un evento allora signori miei e cioè è la fine qua mi sarei aspettato però lo stesso cambiamento per tutto il resto delle deleghe che riguardano l'adafflitto cosa che non è successo lei si è proiettata esclusivamente sugli eventi tutto il resto la scuola per primo per quanto riguarda la prova in valsi che fa parte della scuola e delle deleghe l'anno scorso se i ragazzi sono riusciti a fare quello che richiedeva il ministero cioè la prova online è grazie al sottoscritto perché nell'assessore d'afflitto nel sindaco si sono presentati alle riunioni che io ho convocato sotto richiesta dei dirigenti per cercare di dare la possibilità a questi bambini di di procedere secondo quelle che sono le richieste ministeriali dopodiché posso anche aggiungere ma molto serenamente che il il preside dell'istituto comprensivo ha mandato una lettera a me personalmente al sindaco chiedendomi se eravamo disposti a inviare a far sì che lui inviasse una lettera di ringraziamenti nei confronti miei del sindaco relativamente al al progetto che ha portato un risultato positivo il sindaco ha risposto dicendo preside tolga via la mia firma e ci metta quella dell'adafflitto ma l'adafflitto cosa ha fatto di tutto ciò nulla e questa è la cosa drammatica sempre a senso unico per quanto riguarda vera il problema di vera è ancora più grave perché l'anno scorso abbiamo firmato una delibera che riguarda la parametrazione e l'efficienza e con la sostenibilità economica di vera servizi ebbene quel documento firmato è sbagliato perché io ho scritto al comune di orbassano che mi ha inviato i dati e che se volete ho qui a disposizione e non si sono tenuti in co non si sono tenuti in co non si sono tenuti conto gli sconti che sono stati applicati dalle imprese che hanno effettuato il taglio le verde nel comune di orbassano e quindi quella parametrazione farlocca perché è inferiore di 60 mila euro di conseguenza vera da quel punto di vista lì non è economicamente sostenibile e poi il fatto che si voglia strumentalizzare ciò che io dico per quanto riguarda vera io lo trovo veramente dirimente perché il pensare che io possa diciamo pensare che chi lavora all'interno della struttura l'attuale gesime non faccia bene il suo il suo lavoro è completamente sbagliato il sindaco ha detto andiamo avanti perché i cittadini ci hanno votato e quindi si lavora per loro presidente cosa farà lei adesso allora cosa farò io è una domanda alla quale attualmente non so dare una risposta concreta sicuramente formerò il gruppo di maggioranza per il momento sono ancora presidente del consiglio fino a quando non formalizzerò le mie dimissioni lei tra le altre cose ha contestato il progetto del ciclo pedonale di corso batteotti sì quel progetto è aberrante ed è nota il fatto che l'assessore rocca salva non conosca assolutamente il territorio ci ha propinato circa un anno fa un progetto legato appunto alla ristrutturazione di tutto il corso matteotti e il corso papà giovanni senza tenere in considerazione quali sono gli spazi e le dinamiche di funzionamento ora naturalmente ho la possibilità di farvi vedere questo progetto che io ritengo sia aberrante ho chiesto diciamo le dimissioni personalmente rocca salva di fronte al sindaco come sono state anche chieste dal consigliere battafrano non è una persona in grado di gestire questo settore purtroppo questo lo paghiamo tutti noi come cittadini ma la preoccupazione più importante sentendo anche quelle che sono le dichiarazioni del sindaco la mia preoccupazione come cittadino è dare la possibilità al sindaco roberto falcone di ricandidarsi correndo il rischio di avere nuovamente un sindaco che prova che che sicuramente a mio avviso a mio modesto parere non rappresenta il movimento 5 stelle con il rischio di ritrovarci nuovamente l'assessore d'afflitto l'assessore d'acqua salva che uno pensa solamente a fare gli eventi e l'altro pensa semplicemente a non essere presente risultano ad esempio risulta ad esempio da parte dell'assessore rocca salta rocca salva una mancanza pari al 33 per cento delle sue presenze in giunta se non ero nell'anno 2018 se non in quello 2017 ma comunque tutti gli anni vanno di pari passo il sindaco sì io io non credo non lo so assolutamente perché ricoprire questo ruolo è estremamente importante e per farlo bisogna essere delle persone serie se la serietà è quella dimostrato da roberto falcone mi dispiace non farò sindaco un'ultima domanda sorge spontanea dopo quattro anni perché si è arrivato a questo dopo quattro anni si è arrivato a questo per il semplice fatto che non si riesce più a digerire quello il rospo che ti vogliono fare ingoriare tutti i giorni a novembre dell'anno scorso abbiamo chiesto al capogruppo guido ruento in una riunione fatta novembre di di poter discutere il documento unico di programmazione prima che la giunta lo deliberasse successivamente al a questa richiesta lui è venuto qui a palazzo e ci ha inviato una chat dove diceva il documento unico di programmazione non si discute passerà così la delibera questo non è l'atteggiamento del movimento 5 stelle grazie grazie